In tantissime città, milioni di ragazzi sono scesi in strada quest'anno per la prima volta per chiedere una cosa molto semplice, di avere un futuro, una cosa elementare ma che viene messa in discussione. Io credo che un buon impegno da parte dei giovani e anche per riuscire a cambiare la società sia quello di offrire ai giovani innanzitutto un'opportunità di crescita. Quello che secondo me può cambiare la situazione per i giovani è quello di trovarsi davanti a delle organizzazioni che gli forniscono dei momenti per crescere. Promuovere dei momenti che siano sia di formazione sia di azione. Grazie a tutti. Perché noi siamo la generazione promotrice degli obiettivi dell'agenda del 2030, un piano di 15 anni per tutti che non lascerà nessuno indietro, anzi ricordatevi sempre che l'unione fa la forza. Hashtag fai sentire la tua voce.